Dopo la riunione concitata con i residenti e la bocciatura da parte della soprintendenza del percorso della variante, altri abitanti della trave tornano a far sentire la loro voce. Infatti, le modifiche richieste dall'ente marchigiano, che tutela il patrimonio archeologico, culturale e paesaggistico, ieri ha chiesto al comune alcune modifiche al tracciato, indicando la realizzazione di un percorso che, affiancando all'area sportiva Zengarini, si metta verso la rotatoria della chiesa del Carmine per poi proseguire in una galleria artificiale. La notizia ci ha fatto rabbrividire, hanno commentato alcuni abitanti del quartiere. Una zona di vita allo sport, dove la gente va a riossigenarsi, si legge in una lettera che ci hanno lasciato, come può pensare che far passare una strada ad alta intensità di traffico accanto ad una pista d'atletica vada bene per la salute. Tutti i piani regolatori che si sono succeduti hanno tracciato lo stesso percorso per gli interquartieri di Fano, personaggi competenti e di risalto nel panorama italiano. La sovrintendenza, hanno proseguito, non ha competenze in merito e forse non ricorda che nel campo che costeggia il circuito Marconi ci sono i resti di una villa romana. Chiediamo che l'idea malsana della sovrintendenza venga bocciata sul nascere, hanno aggiunto i residenti, e che tutti i personaggi importanti della città che hanno fortemente ostacolato il tracciato originario aderente al PRG si espongano anche contro questa scellerata alternativa. Tutti i comuni lavorano per spostare il traffico fuori dalla città, mentre quello di Fano lavora per portarlo dentro ad una zona sportiva. La salute, hanno concluso, è un bene pubblico e va tutelato. Non si può spostare una strada, un giorno si fa da una parte e dopo qualche giorno si fa da un'altra parte. Hanno mandato gli espropri, ma io mi domando a chi gli hanno mandati questi espropri, se ancora non sappiamo neanche dove la strada verrà fatta. Inoltre è un peccato continuare a rovinare questa zona. Tra le barriere contro il suono, che sono veramente orribili, la rotondina della Barbie che è pochino più in su, cioè i pali non ce n'è uno dritto, gli sparti traffico sono tutti rotti, completamente rotti, i pali sono tutti storti, non ce n'è uno dritto, ma io dico ragazzi però un po' di decoro, cioè veramente bisogna assolutamente che qualcuno riprenda in mano la situazione. Se la strada non va fatta sulla collina non va fatta neanche a ridosso della zona sportiva e allora pensiamo a una cosa alternativa. Lei ha sentito parlare tanto di questa strada già fin da piccola? Sì, nel 67 io avevo sei anni e quindi già si parlava di questa strada perché il mio vicino di casa, il mio dirimpettaio, praticamente aveva un terreno per il quale era preoccupato perché aspettava l'esproprio nel 67. Una strada che poi avrebbe attraversato un campo immenso che era il famoso podere Solazzi dove non c'era assolutamente nulla al di là di questo vastissimo campo. Quindi una strada che non avrebbe dato fastidio assolutamente a nessuno. Non si è fatta, però vi ragioni perché non c'era nemmeno la necessità di poter... cioè non c'era traffico. Adesso riproporre quel progetto lì su un campo che non c'è più perché al posto di quel campo abbiamo tantissime case. Io direi che sarebbe ragionevole magari poter capire che quella strada lì non è più adatta per quel tipo di paesaggio, di quella... cioè non si può più fare lì, dovremmo trovare una soluzione veramente alternativa proprio fuori da quella cosa lì e vedere se c'è un'altra zona più idonea. Quindi variante 1, variante 2 sono per me comunque sbagliate. E lei è molto arrabbiata, Sandra. Tantissimo, sta a sentire io mi passo sotto le finestre di casa mia. Io 30 anni fa ho fatto una casa in mezzo a un campo per stare benino. Adesso io ho i nepoti, i bambini che devono andare lì davanti a quel campetto a calcio. Ho piantato degli alberi, ho piantato... che adesso se quelli qualcuno me li tocca, io qualcuno, te diglielo che... E non è possibile. A cosa serve una cosa così? A cosa serve? Ditemi voi gli altri. Dice per smaltire il traffico laggiù. Ma dai, ma la sa perde. È tanto bene quel verde che c'è rimasto, solo quello. Qui a Fano, solo quello c'è. Se giri tutta a Fano. E deve passare il camion, ci devono passare. Ma pensatene un'altra. E cosa, Sandra, preoccupa... E lasciate perdere tutto. Ecco, preoccupa anche il fatto che i 20 milioni potrebbero non bastare. Ha paura che rimanga un'incompiuta. Rimane incompiuta, no? Mezza strada fatta e mezza no. Bella, eh? Come ce n'è tanta Fano. Fate così, vi sembra una roba bella? Vi sembra? Basta. Non è una cosa inservibile. C'è tanto bene la stradina di carbone. di ghiaia. Chi vuole passare, passiamo lì. E se no, chi altro passa sulla strada che l'altra?